Insieme ad Avis Marche sulla scia del progetto nazionale Best Choice, Aido e Admo Marche sono entrate nelle scuole. I responsabili delle associazioni si sono confrontati con gli adolescenti dai 12 ai 18 anni su temi importanti. Uno stile di vita corretto è una delle migliori forme di prevenzione e una sorta di chiave d'ingresso alle buone pratiche come la donazione di sangue, di midollo osseo e di organi. Le scuole sono il nostro punto di riferimento perché i ragazzi sono il nostro futuro e quindi la cultura del dono, la cultura della solidarietà va alimentata fin da piccolo con tante modalità che sono quelle che ci permettono di avvicinarci alle scuole, ai ragazzi con un loro linguaggio e Best è stata una di queste direttive che ha potuto in qualche modo avvicinarci ai ragazzi. In questo periodo di pandemia in cui siamo stati lontani dalle piazze, dai teatri, dai posti che abitualmente frequentiamo, tenere accesa la fiamma della informazione nei confronti degli studenti e poter continuare ad entrare nelle scuole per noi è stato determinante. Abbiamo collaborato con molto piacere, è un progetto a livello nazionale che vede coinvolto ben 12 Avis e ci è piaciuto in modo particolare poter parlare di didono e siamo soddisfatti molto per l'esito del progetto che ha visto protagonisti i giovani.